Anticipazioni Endless Love. Nian si ritrova in compagnia di Kemal presso l'abitazione di Leila mentre sono assorti nei preparativi per il trasloco. Durante un acceso di verbio fra i due, Kemal viene interrotto da una telefonata di Asu, scatenando la gelosia e l'ira di Nian che, visibilmente contrariata, lascia precipitosamente la scena. Asu invita Kemal a raggiungerla a casa sua. Una volta lì, Kemal si trova di fronte a Akhi, il quale gli rivela il suo ultimo desiderio prima di lasciare questo mondo, assistere al matrimonio di Kemal con sua nipote Asu. Tuttavia, Kemal rifiuta cortesemente, spiegando di non poter ingannare Asu poiché il suo cuore è già promesso a un'altra donna. Nel frattempo, Nian viene rapita da due individui misteriosi mentre tenta di lasciare un messaggio nella segreteria telefonica di Kemal. Determinato a ritrovarla, si rivolge a Zeir per chiedere aiuto. Anche Sali si unisce alle ricerche per salvare Nian. Alcuni dettagli condivisi da Nian nel suo messaggio prima del rapimento permettono a Kemal di identificare uno dei rapitori. Si scopre che si tratta di uno degli uomini di Cori Skender, detenuto nella prigione di Maltepe, la stessa in cui si trovano Tanner e Nekmi. Kemal decide quindi di chiedere nuovamente l'aiuto di Nekmi per scoprire dove sia stata portata Nian. Nel frattempo, Onder si reca a casa di Kemal e lì incontra Leila. Leila lo ringrazia per averle fornito documenti cruciali per riottenere i suoi diritti nella società e lo perdona per le sofferenze che le ha causato in passato. Nian è stata rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Skender, da un gruppo di uomini pagati da Tanner. Tanner, desideroso di vendicarsi di Emir, intende uccidere Nian per far soffrire Emir e per incastrarlo per l'omicidio, replicando ciò che Emir ha fatto con lui, facendolo finire in prigione con l'accusa di aver ucciso sua moglie Karen. Sia Kemal che Emir, consapevoli del rapimento, si lanciano in una corsa contro il tempo per scoprire dove si trova Nian, sperando di raggiungerla e liberarla prima che sia troppo tardi. Kemal utilizza tutte le sue conoscenze e riceve l'aiuto di Nekmi per ritrovare Nian, mentre Emir sfrutta la tecnologia per localizzare il nascondiglio della moglie. Nel frattempo, Onder, preoccupato per l'impossibilità di contattare la figlia, chiede spiegazioni a Emir. Insoddisfatto delle risposte del genere, Onder si rivolge anche a Kemal, il quale decide di non nascondere la verità al padre di Nian. Anche Ozan, determinato a ritrovare la sorella, si unisce agli sforzi del gruppo. Dopo essere stata liberata e tornata a casa, Nian affronta Emir accusandolo dell'omicidio di Karen. Emir nega di essere l'assassino, ma ammette di aver tentato di insabbiare la vicenda, rivelando che il vero colpevole è un suo uomo, Tarik. Nonostante Kemal abbia deciso di non vedersi più con Nian, lei lo cerca ripetutamente per riferirgli quanto ha appreso da Emir. Nel frattempo, Vildan e Galip si incontrano per firmare l'atto di acquisto della casa. E lì Vildan scopre di essere stata ingannata. Galip sarà l'unico proprietario. Ma le brutte notizie per Vildan non finiscono qui. Durante un'assemblea straordinaria del consiglio, viene a sapere che sua sorella ha deciso di riprendere pienamente il suo ruolo di socia nell'azienda. Hakki consiglia ad Asu di aspettare pazientemente che Kemal dimentichi Nihan, ma Asu ha fretta e un piano. Determinata a conquistare Kemal, chiede aiuto a Fehime, trovando in lei un'alleata preziosa. Kemal intanto confronta Tufan, esprimendo i suoi dubbi sulla sua sincerità e dichiarando di non credere che suo fratello Tariq sia responsabile dell'omicidio di Karen. L'alibi fornito da Banu sembrerebbe confermare l'innocenza di Tariq, ma un controllo aziendale suggerito da Tufan rivela che Banu ha mentito. Nel frattempo, Nihan interroga Tariq riguardo alla sua presunta implicazione nell'omicidio, ma lui nega categoricamente. Successivamente, Tariq confida a Emir la sua paura di essere scoperto e gli rivela anche di essere innamorato di Banu. Leila, alla sua prima riunione in azienda, vota contro una proposta, costringendo così gli azionisti a riunirsi nuovamente. Asu implora Kemal di andare a casa di suo zio Haki per convincerlo a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Haki rifiuta l'invito e prega nuovamente Kemal di costruire una relazione d'amore con Asu e di starle vicino dopo la sua morte. Nihan soffre profondamente, rendendosi conto che, a causa del loro amore impossibile, Kemal non potrà mai essere felice. Decide quindi di parlare un'ultima volta con lui, per mantenere una promessa fatta anni prima, quando avevano iniziato a frequentarsi. Kemal ha un duro scontro con i suoi genitori, soprattutto con sua madre, che non riesce a comprendere perché il figlio non voglia chiedere ad Asu di sposarlo. Emir, deciso a scoprire le vere intenzioni di Leila riguardo alla gestione degli affari, si reca a casa di Kemal, dove Leila vive da quando ha perso la sua abitazione, per parlarle. Nel frattempo, Zeynep lascia intendere a Onder di conoscere un grande segreto di famiglia, e riesce così a farsi rivelare ulteriori dettagli sul matrimonio tra Nian ed Emir. Tutti gli indizi raccolti da Zeynep sull'omicidio di Karen sembrano puntare contro Tariq, ma Kemal fatica ad accettare che suo fratello possa essere un assassino. Zeynep minaccia Emir, dicendo che scoprirà tutta la verità sul suo matrimonio di facciata con Nian e sui segreti di famiglia. Nian, consapevole delle sue scelte passate, chiede ad Asu di rendere felice Kemal, cosa che lei non è riuscita a fare. Tariq confessa a Kemal di aver ucciso Karen per errore, e Kemal decide di denunciarlo alla polizia. Si reca quindi a casa dei genitori accompagnato da un paio di agenti, nel tentativo di convincere Tariq a costituirsi. Racconta tutto a Feime e Usein, rivelando loro dell'omicidio involontario commesso da Tariq. Tuttavia, i genitori soidere si rifiutano di credere alla versione di Kemal. Tariq nega la sua colpevolezza e chiede aiuto a Emir. Nel frattempo, Efsan avverte Nian che Zeynep sta indagando sul suo matrimonio con Emir, facendo molte domande alle domestiche di casa Setzin. Tariq viene portato in una centrale di polizia per essere interrogato in merito all'omicidio di Karen. La famiglia preoccupata si precipita sul posto. Zeynep, arrivata per sostenere il fratello, rivede i genitori dopo molto tempo. Mentre sua madre Feime l'abbraccia commossa, Usein la ignora freddamente. Anche Emir si presenta alla centrale di polizia, accompagnando Nian e facendo sapere a tutti che intende assicurare a Tariq un'adeguata assistenza legale. Kemal, convinto della colpevolezza del fratello, è sicuro di aver preso la decisione più giusta, sebbene sia stata difficile. Tuttavia, i suoi genitori non condividono questa opinione, e nemmeno Zeynep sembra essere convinta della colpevolezza di Tariq. Solo Azu sostiene Kemal incondizionatamente. Deciso a vendicarsi delle sofferenze causate alla sua famiglia, Kemal inizia a indagare sulla famiglia di Emir, cercando un punto debole. Nel frattempo, Vildan, rimasta a casa da sola, approfitta dell'occasione per investigare sul passato di Zeynep. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti, voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!